Il 21 agosto è il vio ufficiale, ma la stagione in serie A del Crotone è già iniziata da un po'. Da quando il gruppo Rosso-Blu ha conquistato l'artmetica promozione, nella città pitagorica si susseguono i summit di mercato. Il Crotone non vuole recitare il ruolo di comparsa nella massima serie. Il presidente Vrenna è stato chiaro, la squadra che verrà allestita sarà di tutto rispetto. Il numero uno della società di Viercole Scalfaro, però, dovrà fare a meno dell'uomo che ha trascinato il Crotone in A, Ivan Juric. Il tecnico corato, salvo clamorosi sviluppi, è ormai destinato a prendere il posto di Giampiero Gasperini sulla panchina del Genoa. Ma Juric potrebbe non essere il solo a spostarsi in Liguria. A Genova, a Spondagrifo, potrebbero sbarcare anche Gianmarco Ferrari, difensore centrale classe 92, e Federico Ricci, l'esterno da dieci gol stagionali di proprietà della Roma. Il primo è inseguito anche dal Sassuolo e piace molto pure al Monaco in Francia. Il secondo, dopo lo straordinario campionato a Crotone, potrebbe restare nella capitale. Possibile strada inversa, invece, per il fratello gemello Matteo, che piace parecchio al DS Rosso Blu Ursino, ma anche al Cesena, città in cui si mormora con insistenza un possibile ritorno di fiamma tra il club pitagorico e Massimo Drago sulla panchina bianconera in questa stagione. Alessio Bonpasso per la CNews24. Alessio Bonpasso per la CNews24.